L'ultimo regalo è il nuovo portale dell'Ateneo D'A, uno strumento privilegiato, dicono all'Università di Foggia, della comunicazione istituzionale. Si congeda così dopo cinque anni il magnifico rettore Giuliano Volpe, ci fossero stati più fondi e meno tagli, spiega, si sarebbe potuto fare molto altro ancora. Abbiamo dovuto contrastare una politica sciagurata di tagli, di ridimensionamento, di screditamento dell'Università. Quindi certamente una serie di cose non è stato possibile farle, ma per esempio avrei voluto fare la casa editrice dell'Università, la University Press, avrei voluto fare altri servizi per gli studenti per rendere ancora più efficace la loro attività e la loro vita universitaria. Ovviamente investire molto di più nella ricerca e nella didattica, dove invece abbiamo subito i danni maggiori in termini di finanziamento, ma l'università è cresciuta perché la qualità della ricerca fatta nell'Università di Foggia è stata certificata come tra le migliori d'Italia. A Volpe subentra il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il professor Maurizio Ricci, che guiderà l'Università di Foggia fino al 2019, anche lui alle prese con tagli e poche risorse. Dovremmo puntare anche un reperimento di nuove risorse finanziarie anche in direzione dei progetti comunitari, perché lì c'è una vasta area che noi dobbiamo sempre di più imparare a sfruttare e a utilizzare proprio al fine di compensare i tagli che nel frattempo ci sono stati.